Sindaco, l'opposizione a Palazzo San Domenico continua a contestare questo eventuale conflitto di interessi. Lei cosa si sente di aggiungere a quanto già detto nel comunicato di ieri? L'ho detto nel comunicato di ieri, l'ho ripetuto sempre. Il conflitto di interesse e eventuale incompatibilità deve avere degli elementi certi e delle cose sulle quali uno poter dire. Io ho risposto e risponderò nelle dovute sedi, questo non c'è, ma se le azioni sono utilizzate in maniera strumentale per far sì che i cittadini ai quali io devo rispondere e che risponderò sempre devono dimenticare tutto quello scempio che è stato fatto dalla passata amministrazione e non si rende conto che il Comune è un Comune in predissesto che in qualche maniera era prossimo al dissesto, fortunatamente l'abbiamo evitato, un Comune che è stato commissariato e sciolto per mafia, un Comune che ha tutte le emergenze, dalle case popolari all'emergenza abitativa, all'emergenza di tutte le attività, tra cui anche l'emergenza degli LSU che entri 31-12, se non sarà data una proroga dovranno andare a casa, allora qualcuno vuole far dimenticare tutto questo e naturalmente dei banchi dell'opposizione, dimenticando che alcuni di loro negli ultimi 25 anni sono stati tra i banchi di chi ha governato questa amministrazione, si inventano questi. Se questo è il tema su quale loro vogliono andare, sono convinto che non faranno il bene della città, come non l'hanno fatto quando governavano, non lo faranno anche all'opposizione. Se le discussioni sono sui fatti, allora lì ci ragioniamo. Quindi lei è tranquillo e rimanda al mittente tutte le accuse? Io sono tranquillo e penso che oggi il vero, diciamo, chi ci deve giudicare è il cittadino, il cittadino che ci ha dato questa grandissima responsabilità di amministrare questa macchia comunale e noi risponderemo, come abbiamo fatto nell'ultimo mese, sempre a cittadino, dimostrando con i fatti di quello che sappiamo fare. Quindi quelle date non c'entrano niente con le accuse che vi sono piovute? Ognuno può leggere le date a modo suo, qualcuno le legge facendo riferimento a quello che conosce, qualcosa non conosce, però non voglio fare adesso l'investigatore di chi dice le date, io guardo soltanto i fatti e i fatti dicono questo, tanto non so dove si vogliono appellare, però se vogliamo continuare su questo tema abbiamo da dire altri. Io invece inizierei a pensare seriamente che forse il conflitto di interesse sta nella testa di qualcuno che continua a pensare che sta ancora in campagna elettorale, basta la campagna elettorale è finita e si devono rendere conto che i cittadini hanno deciso a stragrande maggioranza che devono stare a casa. Vedo che si inizierà a guardare i faldoni degli anni passati? A questo punto se mi è stato chiesto di legalità iniziamo a prendere i faldoni degli anni passati iniziamo a capire se veramente ci sono delle posizioni di conflitto, poi vi terrò informato perché è giusto che la città sappia quello che è successo in questo comune, in questa amministrazione negli ultimi 25 anni. Giulia Freschi, il sindaco in conferenza stampa in pratica rimanda al mittente, cioè a voi dell'opposizione, le accuse che avete appunto presentato ieri. Ho seguito la conferenza stampa del sindaco e devo dire l'ho trovato molto imbarazzato per anche le considerazioni che ha fatto, non si può fare un ragionamento a ritroso nel tempo e poi allontanare quelle che sono le incompatibilità nel momento in cui avviene il fatto. Quindi il progetto, l'incarico certamente era datato, era degli anni, lo abbiamo detto tant'è che lo abbiamo anche presentato negli allegati, abbiamo presentato tutta la cronistoria del progetto per quanto riguarda la realizzazione delle dune di Ippocampo così come Unati è un'associazione temporanea di imprese, quindi al di là del vincolo di rappresentanza che lui mi pare abbia richiamato, c'è comunque una solidità nelle azioni che vengono svolte. Così come per quanto attiene il discorso del famoso 97% e 3% di residuo, comunque le opere devono andare a collaudo, quindi c'è una corresponsabilità anche nell'ambito del collaudo dei lavori e mi dispiace dover dire queste cose proprio ad un collega peraltro e ad un imprenditore che sa perfettamente come funzionano le cose. Quindi per voi il conflitto di interesse c'è sempre? Il conflitto di interesse intanto c'era nel momento in cui lui si è candidato e lo aveva anche detto in campagna elettorale e non solo, anche la questione del Manfredonia Calcio, un discorso è la presidenza di un'associazione calcistica, un'altra cosa è la realizzazione di opere attraverso la sua società nell'amministrazione e comunque nel campo sportivo. Il conflitto di interessi comunque persiste anche perché la cessione delle quote societarie è stata fatta a congiunti, quindi fino a quando non si concluderà tutto l'iter del procedurale anche del fino al collaudo, in questo caso per quanto riguarda le opere di Ippocampo, comunque rimane e non dimentichiamo che c'è comunque una dichiarazione resa al 2 di dicembre che anticipa una situazione che invece viene chiarita in qualche modo dal punto di vista burocratico solo il 16 di dicembre. Noi andiamo avanti, noi chiederemo naturalmente di un consiglio ad hoc se non se non dovesse trattare perché ovviamente queste situazioni non si possono certamente demandare soltanto ad una conferenza stampa o ai chiarimenti degli organi preposti che noi abbiamo interessato nella fattispecie del prefetto di Foggia, ma dobbiamo anche rendere chiarezza a tutta la cittadinanza e ci dovrà essere un consiglio dedicato proprio a questa situazione.